Due arresti e tre denunce, questo l'esito del servizio di controllo straordinario effettuato dalla polizia nel Vallo di Lauro, sono finiti in manette padre e figlio rispettivamente di 63 e 37 anni, entrambe incensurati e residenti a Moschiano. I due, in concorso tra loro, sono ritenuti responsabili di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni, in quanto sono stati trovati in possesso di un fucile calibro 20 con matricola brasa, una pistola semi-automatica calibro 6,35, 34 cartucce dello stesso calibro e altre 19 calibro 20. Nel corso della stessa operazione sono stati denunciati in stato di libertà un 37enne pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pago Vallo Lauro e la moglie convivente 36enne, in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica. I due si approvvigionavano di corrente con un allaccio abusivo sulla rete pubblica dell'Enel. E' stato infine denunciato in stato di libertà anche un cinquantenne di quadrille accusato di riciclaggio per aver alterato il numero di telaio di un'autovettura a cui aveva posto le targhe di un altro veicolo. Complessivamente sono stati eseguiti 5 perquisizioni domiciliari e sono stati controllati 80 veicoli e 120 persone, di cui 37 con pregiudizi di polizia.